allora io io voglio raccontare la mia idea per dimagrire adesso sto camminando e io volevo congevidervi mia esperienza quindi avevo comprato una tuta sauna sotto questo video vi lascio il link dove ho comprato allora praticamente io non sto facendo niente sto solo camminando ho messo quella tuta camminando e sto sudando abbastanza bene ma vi provo per vedere come su da questo tutto bagnato tutto umido ancora non ho fatto tanta camminata ho fatto solo 5 mila passi a proposito al giorno si deve fare minimo 10 mila passi voi potete cominciare anche con 5 mila passi al giorno dovete scaricare un'applicazione sul telefono e quella quando camminate vi fa di contapassi anche a casa comunque questo questo tutto è molto buono dentro sembra gomma non lo so vedete come dentro un diverso colore ma con il materiale questo non vi posso dire perché non lo so ma è bello così da mattina porti i bambini a scuola e fai oppure mentre cucini mentre fai lavori a casa si mette questa tuta e perdi un po di grammi o chilagrani quindi consiglio per dimagrire mi raccomando prima di camminare fare un'attività fisica dovete bere almeno un bicchiere di acqua e durante allenamento si deve bere acqua quindi vi auguro buon proseguimento era un video corto giusto per condividervi mia nuova esperienza vediamo risultati un po più tardi ciao 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 ciao